Matteo, primo tempo, cosa dici? Ma abbiamo fatto un buon primo tempo, sapevamo che comunque il Modena è una squadra che ci poteva creare delle difficoltà e niente, adesso c'è ancora 45 minuti da giocare, speriamo di far bene Che legnata l'Azhar però, eh? Eh, sarebbe stato meglio se fosse andata dentro, comunque resta il fatto che ha fatto un bel tiro, speriamo un pochino più di fortuna nel secondo tempo Cosa è mancata e cosa invece abbiamo fatto di buono in questo primo tempo, secondo te? Siamo ancora all'inizio, insomma, di cose ce ne sono ancora da fare, però penso che la strada è quella giusta, la mentalità è quella giusta Allora, affrontiamo comunque un campionato difficilissimo e come ha detto Matteo prima, il Modena comunque è un avversario ostica da tanti anni in questa categoria quindi direi che tutto sommato stiamo facendo bene Si soffre stare in tribuna? Eh sì, quasi più che in campo Senti, come hai visto il primo tempo? No, un bel primo tempo, abbiamo tenuto bene il campo, loro sono una bella squadra perché comunque sono messi bene in campo Buono, è difficile arrivare in zona d'attacco, però vabbè, tutto sommato abbiamo fatto una buona prestazione Che bel tiro l'ha Eh sì, a lui non gliel'ha chiesto però Sì, non lo chiedo, chiedo a te Ho chiesto a tutti, un bel tiro Tu lo facevi però, eh Peccato non sia entrato